Due sbarchi sulle coste salentine nel giro di poche ore. Il primo è avvenuto nella tarda serata di lunedì a Torre San Giovanni, Marina di Ugento. A bordo del motovelliero 35 migranti di nazionalità prevalentemente kurda e rachena iraniana in viaggio da diversi giorni, che sono stati subito visitati dal medico e soccorsi dagli operatori della Croce Rossa. Risultati tutti in buone condizioni di salute sono stati di seguito trasferiti a Gallipoli presso un centro di prima accoglienza. A condurre le operazioni la Capitaneria di Porto insieme alla Guardia di Finanza, sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, al valio degli inquirenti l'identità di due presunti scafisti. Il secondo sbarco è avvenuto alle prime luci dell'alba di martedì, questa volta a Felloniche. 49 migranti a bordo, tra cui anche donne e bambini, che sono stati anch'essi condotti subito in un centro di prima accoglienza.